Musica Musica Bella ragazzi, qui l'avevamo ben ritrovati nel mio canale, siamo qua su la sentire il 7 bio asus, gioco fenomenale Siamo qui reddito della nave mia si fa salata cumuli di macerie e trova item di stessa terra che mi ha subito Posato via da una massa informe ma una massa informe nera ma si nota all'interno di del rettilo Relito Alla sua ricerca Comunque è una serie che mi piace I numeri Sono abbastanza bassi Io penso che Al di là I gameplay sono I giochi stanno morendo definitivamente per youtube per youtuber piccoli per youtube perché non hanno Un numero di fans ecco perché c'è dai un miliardo di persone che porta resident evil Persone che non sanno che non ho mai usato youtube insomma così è insomma la situation ragazzi Siamo qua Siamo qua E E Luido chimico si ragazzi così purtroppo Questa è la realtà dei fatti Ci sta Vabbè quindi Ripeto bisogna cercarsi alternativi per quelli che perché potrei gameplay non è che fate tanto e ragazzi e qua Qua è morto Contro è stato portato via quel contenuto non è qua Necretto saga di sembrere essere qua l'otto basso mod in tercelo Nel per uso l'opzione Sistione ma non capisco sta lingua può pensare spagnolo ma Evidentemente non lo è Evidentemente no Comunque ragazzi sono appena tornato Sono appena tornato da scuola Dopo c'è dei impegni che Insomma ho detto qua facciamo subito Mi libero di una Di un obiettivo che ho definirlo Quindi Insomma Mi provo a gestire Siamo ufficialmente nella cabina Un posto che non mi piace tanto Qui c'è una porta C'è fluido sparo Consoliamo Sai io controlla zona Devo vedere Porca puttana che nave Porca puttana Non c'è un cazzo qua Allora Allora E quella porta suppongo già Cabina del capitano Chiave a croce mappa nave Per questa chiave a croce cosa mi servirà Dai non fanno niente da fare Certo che non va così non va Ponte Insomma ragazzi dai Ci stiamo un pochino complicando la situazione Facciamo passo per passo E vediamo sto computer qua Magari funziona Eh Cambia schermata Ok Funziona Oh Spero di fare in tempo Ok Viva l'inferiore Ok Buggia No Mettila Evelyn Maredetti allucinazioni Dove si è cacciata? Ma che allucinazioni oh Questo è seriamente cazzo Quindi le cose stanno sul serio Oho Che infatti quella musica lì insomma c'ho un atto di di panico ragazzi eh sta tranquillo sta tranquillo ok solo una illusione sta tranquillo sta tranquillo erba no ma ma come ovi torno più tardi era te bastardo evidentemente dovevamo andare qua qua ci servirà il grimandello munizione mitragliatrice abbiamo anche il suito chimico insomma stiamo in un modo preparando c'è l'erba c'è un computer che sembra rotto che è molto utile è chiusa come faccio io mi chiedo chiave con uno strumento for my carotille per rimuovere bulloni che bulloni per rimuovere bulloni sinceramente non lo so a me mi servirebbe il grimandello che a quanto pare io non lo vedo 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 Grazie. 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 Un altro primo piano, sto cercando, sto cercando come un pazzo da chiave che non la trovo, o almeno qualcosa di utile. Sono liberi, vedi? Ok. Ok. Ok, qua ci deve essere qualcosa di utile. Pistola. Era ora. E' una pistola. Era ora. E' bello che non trovo niente di utile, no? Ho usato la pistola. Ma tutto qui, eh? Non ho... Non abbiamo fatto a poterci, ragazzi. L'ho trovato, ho dovuto andare su YouTube e vedere. Eh, sono altrimenti, io neanche non sapevo che vi sia un'elevatore. E' qua. Non l'ho visto, eh, non l'ho visto, mi dispiace. Però capita, eh... Vai. Così e così. Oh. Dopo... 20 minuti, ragazzi, si fa progressi. Ho c'ho. Lui. Se il cavo si è fuso del tutto, ne avevamo una riserva ma è stato usato per le riparazioni all'infermeria terzo piano. Però chiede a tutti i dati del mio e la macchina di noi, ma non posso chiedere e non insegnare questa cosa. Qua non ci vado perché ci sono i mostri. Allora. Manca un cavo e qui... Manca un fusibile. Sali. Coltello da sopravvivenza. Oddio. Oddio. Uh, si è incazzato, eh. No. Ok. Ok. Questo ci serve. Ok. Ok. Eh, se si è convenza eliminare Emery. E... eliminare Emery. Allora qua dobbiamo... dare un'occhiatina. A seccina dell'elenco dei consigli si stanno ancora soffrendo. Polvere da sparo. Proviamo il fluido chimico, facciamoci un po' di armi. così. E ancora una salute, insomma. E ancora una salute, insomma. ci abbiamo una bomba. Ci abbiamo fluido. Forte. Chiave al maletto il capitano. Eccola. Tanta roba. Allora. A questo punto ne andiamo qua. A vedere dove si va. Uh, che buio. C'è buio. C'è buio. C'è buio. Eeeeeee. Sapevo io. E' sempre così. Ma... Ma come lo si? Madonna ragazzi. Senza pietà e poi. Uh. 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 C'è barito? E' spalletto. e Qualcuno qua è Apriamo noi Prendiamoci l'arma La mitragli attrice ragazzi Allora Tu hai rotto le palle eh però Eh adesso impari eh Qua apriamo il nostro Con il nostro rimandello Vediamo cosa c'è Molta antica Bello eh E resta lì pure Per me Ok Quando abbiamo explorato Poi lo sparo Utile però non mi serve Io devo trovare altre cose Capisci Dai Erba Utile Ok E qua Ma che cazzo è sta roba Non si apre Non si apre Si però Deve esserlo lo stesso Ma credo di sì no Così e Così e Così Adesso si deve aprire E Verde Oh Guarda lì è Proprio Fieri lì è E Adesso Oh Vai Slocchiamo la porta dopo Dopo secoli Siamo qua Nel nostro posto Dove abbiamo visto il filmato Si vede bene con calma eh Non vedo niente Non vedo niente Sì Ok siamo in cabina Ma pensavo già che sono quelle Quelle mosche lì Oddio Non si apre oh Non si apre oh E viene fuori Oh ma come fai là Oh ma come fai su cabiglietta e muori oh E' bel tosto sto quale Molto bel tosto allora Cosa dobbiamo fare qua non ho capito Boh ok Il cavo elettrico ah ok Perfetto Ma è la gente corrosivo Abbiamo cavo elettrico ma ci manca il fusibile Ripara l'ascensore Eh aspetta però Se io vado qua posso salire Ma ovvio che si può Ma ovvio che si può Madonna ragazzi Oh E adesso Oppala Si sale Eh Mi 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 sono ricordato dopo abbastanza tempo E allora facciamo così Fusibile Adesso si va Oh Ok Adesso vai a livello più basso e salva Italy Allora Allora Più basso S2 S2 Andiamo proprio giù giù E Lui ti aspetta Allora 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 Oh Oh Oddio Sono morto E' dietro dietro di me Così Oh bello Ok Prendiamo tutto qua Vai Sta vomitando eh Ok è andato Vai Carichi Aspetta facciamoci Una salute Così Proprio Di stretta Così qua Ok Dai eh Salviamo il nostro Ethan Che fatica per una moneta antica Ma non è là eh ragazzi C'era da prima qua eh Vediamo cosa mi dà Bombe a distanza Ottimo Un momento più oltre So Mora Mora Oddio, mamma mia! Oddio, papà! Quella Evelyn è colpa sua. Che cosa diavolo è? Cosa vi ha fatto? Ci ha infettati con il suo dom. È così che lo chiama. L'ho trovata tra i rottami di Vanave nel Bagliù. Poi tutto è cambiato. Ti infetta e controlla le tue azioni. No? Non proprio, figliolo. Lei... penetra dentro la tua mente e nella tua anima. Non puoi oppurti. Lei diventa una parte di te e non puoi più resistere al bisogno di... di trasformi in qualcosa di diverso. Come con Mia. Mi ha contattato perché è spinta da Evelyn. Ascoltami. Quella ragazzina vuole una famiglia. È lei la chiave. Capito? Tu devi trovarla. Tu devi trovarla. E fermarla. Gaida. Gaida. Devi liberarci. Ti prego. Eò? Ti prego. Te prego. Ti prego. Ti prego. Ehi. Eveline, stai lontano da lui, ok? Perché? Lui non ti ama. Io posso far sì che ti ama. Chioma, non parli del male. Te l'ho detto, non ho intenzione di fargli del male. Non oltre. Non sei mia mamma. Ricorda. Che c'è? Mia, mia mamma. Non c'è tempo. Presto, esci di qui e trovala. Tieni, prendi questo. Cosa? Aspetta, ferma. Che vuoi fare? Cosa vuoi fare? Salvate! Ora devi andare. Non riuscirò a resistere ancora a lungo. No. Vai e uccidi quella mozzosa. No. No. Mia! No! No! È finita. È morta... Ufficialmente Mia. Mia no ma... Sì, niente. Siamo senza equipaggio. Siamo senza equipaggio. E ci pronta ragazzi. Eh. Dopo mi è andata eh. Pesci tutti morti Cos'è qui una fabbrica? Madonna cara Oh ho dimenticato un altro Uccidelo Vabbè dai Non so Non so dov'era No vaffanculo Però il bello è che Io non lo posso ammazzare Perché non ho l'equipaggio Capito? Miniere di scegliante Che servano Per quell'elicottero Alfa 1 Qui bravo 1 Mi ricevi? Qui Alfa 1 Fate rapporto Trovato niente? Nella proprietà dei Baker Risultano zero sopravvissuti Ripeto Zero sopravvissuti Riscontrati segni di lotta E qui ci c'è poi E qui ci abbiamo Tutto il nostro equipaggio Ma tutto Non ce ne manca uno Noi ci fermiamo qua Somente andiamo a ammazzare Il nostro caro amico Qua Guardalo Così Niente ragazzi Noi ci vediamo qui Siamo verso Verso la verità La verità è sempre più Insomma Vicina Ecco diciamo E niente Speravo di finirla Tutto oggi Ma Abbiamo perso Un sacco di tempo La e Pazienza Lasciate un mi piace Noi ci vediamo Al prossimo video Sentivi Versete Bella Allora